Mamma mia ragazzi, Joseph Gamer attenzione, vai così, mamma mia tutti insieme li avevo fatti quelli, vai così bro, bene così, nooo Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo video, finalmente su Minecraft iniziamo la serie Dedital Parkour E per questa serie mi raccomando proviamo da subito a superare i 1000 ma anche i 1500 mi piace Mi è sembrato molto utile iniziare appunto una serie di questo genere, qua c'è una serie di regole da seguire Quindi per il momento diamo anche i credits a Gravity Man 300 che a quanto pare ha creato la mappa Io magari se me lo ricordo vi lascio in descrizione diciamo la vera e propria mappa in download Non so se posso però mettere link e cose del genere perché di solito YouTube queste cose le interpreta come se sto facendo qualcosa di male Per cui vorrei evitare, in lontananza vedo anche roba là, meglio non avvicinarci Comunque ragazzi direi che possiamo iniziare, io le cose base le so fare Quindi in pratica so saltare e tutte cose di questo genere E qui mi dice bene ma sai farlo in diagonale? Eh mi sa già di no Vediamo un attimo, stavo per cadere raga Probabilmente in questa serie potrei sclerare alla grandissima Io ovviamente vi dico da subito che farò un sacco di epic fail Mamma mia raga qua non sono caduto Quindi dovete perdonarmi se cadrò molte volte ma sono qui per imparare Dai che ce la sto facendo raga, qui ce la sto facendo non posso crederci Nice, bene, try it around and pull Nooo ma fate sul serio No raga io non posso mai farcela ecco Proviamoci adesso eh No raga ce l'ho fatta Non so come sia stata possibile questa cosa ma ce l'ho fatta anche adesso Mamma mia sto premendo un altro po' anche tasti randomici Non mi cadere bro Vai così, mamma mia No raga ce la sto facendo per me è incredibile questa cosa Vai così Mamma mia sto andando proprio nel panico più totale Mamma mia raga qua sto per cadere E non mi cadere adesso Ma no non ci credo Quindi qui in pratica vado piano piano In questo modo non cado Vabbè più o meno c'ero su questa cosuccia dai Quindi da qua in poi raga cadiamo Però c'è un checkpoint qua c'è scritto E quindi back to the last checkpoint Quindi ragazzi molto bene Questo è il primissimo checkpoint Per cui ecco qua credo di averlo attivato Oh e ci siamo Credo si stia facendo giorno più o meno Non so se qua possiamo dormire Mi sa di sì E infatti molto molto bene Finalmente è diventato giorno Now let's practice sprinting Ok devo correre Qua non so cosa diavolo c'è scritto Però raga noi corriamo qua All'omento questo credo di saperlo fare Per cui ci lanciamo in maniera anche piuttosto agile Almeno credo Almeno spero Non cadiamo raga mi raccomando Vai che lo sto facendo Qui solo che è un po' più difficile Aspetta 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 All'ultimo sono caduto all'ultimo Mi ero appunto un attimino fatto prendere dalla foca di correre Però dai ce l'abbiamo fatta Now try going a gear with No adesso prova a saltare più in alto con due blocchi Oh mamma mia raga E ora io ci provo Ma vi posso assicurare che inizierò a sclerare subito Io già lo so Io no lo sapevo Devo andarci piano qui eh Vediamo così Vai raga ce la possiamo fare Io ne sono sicuro Per fortuna ho il senso della misura Non ce l'ho il senso della misura Ogni volta devo fare tutto da capo Raga vi posso assicurare che Fare una cosa del genere È davvero un po' complicato Perché io sono agli inizi Quindi davvero sto studando In una maniera assurda Vai che ce la facciamo questa volta Bro con più convinzione Mi raccomando Bene così Che poi sotto non ti mettono nemmeno nulla Per salvarti in qualche modo Nulla devi cadere Ce l'ho fatta I prossimi salti sono lunghi Puoi sprintare Quindi in pratica correre Proviamoci un po' Nulla Questa volta devo provarci bene Bene così raga ce l'ho fatta Vai così bro Mamma mia L'ansia proprio No Sono caduto No Guardate lì raga Cioè guardate tutta sta roba Ma io come cavolo faccio a farla Sarà davvero impossibile Che poi io sto registrando già da quasi 20 minuti E poi starete solo a 3 minuti di video Dovrò tagliare un bordero di roba Devo concentrarmi Vai così Mamma mia ragazzi Joseph Gamer attenzione Vai così Mamma mia Stai insieme Li avevo fatti quelli Cosa ho fatto Ci devo riprovare ragazzi Devo fare tutti insieme Mamma mia Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta No Perché sono caduto qua Mamma mia Il panico più totale Il panico più totale Finalmente Il checkpoint numero 2 Come si attiva Non posso crederci Comunque ragazzi Noi proviamo ad andare avanti Non ci importa Vai così bro Bene così No Eh ragazzi Allora qua è complicata la situazione Allora vediamo un po' Io corro e vado Non ci vado Ce la devo fare Vai così Ce l'avevo quasi fatta Guarda quante piattaforme ci stanno La ragazzi Non le riusciremo a fare mai Io ne sono più che convinto Bene così Mamma mia ragazzi Ora dice che devo correre fino alla fine Ma fa sul serio Non ce la farò mai Lo sapevo Questo salto qua È proprio assurdo Sì Dobbiamo sprintare ragazzi Proviamoci va Io ci provo Spero di riuscire a farcela Mamma mia ragazzi Attenzione Joseph Gamer Ce la sto facendo Non posso crederci Mamma mia Qua vado un po' nel panico Ce la sto facendo Ce la sto facendo Non ho visto il cartello Non ho visto il cartello Non posso fermarmi adesso Mamma mia ragazzi Joseph Gamer Attenzione Ce la sto facendo No ragazzi ce l'ho fatta Non mi cadere nei buchi Nei momenti meno opportuni Mamma mia ragazzi Il dito mi sta facendo male Ce la sto Non ce l'ho fatta Ragazzi miei ce l'ho fatta Questa è la fine E siamo arrivati Al terzo checkpoint Io davvero Non posso crederci Io quindi ragazzuoli Per ora vi saluto Per me è stato davvero complicato Portare a termine Tutto ciò Nei prossimi episodi Vedremo tutta quella roba Per cui mi raccomando Proviamo a superare I mille Ma soprattutto I mille e cinquecento Mi piace Vi voglio attivi appunto Per queste serie su minecraft Per cui mi affido a voi E sul vostro supporto Seguitemi su facebook Twitter Instagram Sono tutti i link in descrizione Così come quello Del mio primo canale youtube Per cui ragazzi Alla prossima Ciao